salve a tutti e bentornati in un nuovo video la telecamera è lì ma io guardo qua perché il computer è qui quindi avete notato probabilmente il cambio di regia ho spostato un attimo la webcam notate che ho anche messo il numero 13 di slam dunk come diciamo sfondo personale per questo video commento al capitolo 994 di one piece che precede settimana prossima appunto ahimè la pausa e niente l'ho messo perché è troppo bello cioè per non essere esibito quindi per chi ancora non stesse facendo la ristampa l'ultima edizione appunto della star comics l'ultima ristampa o meglio scusate della planet manga pardon comunque l'ultima ristampa questa perfect edition di slam dunk vi consiglio assolutamente di prenderla perché è un capolavoro imperdibile poi in un'edizione veramente fantastica detto questo detto questo ora non parliamo di slam dunk ma parliamo appunto di one piece one piece in particolare il 994 capitolo odierno che appunto si intitola il mio altro nome è Yamato una cosa del genere e che appunto come dicevo precede la pausa capitolo 994 che vede anche la fine delle mini avventure di pound o meglio scusate che le mini avventure si di pound credo ecco pound era assoluto protagonista anche se le mini avventure erano forse della ciurma di dei pirati di capone ma ripeto il miglior personaggio di questa mini avventura è senza dubbio pound il miglior personaggio anche uno dei migliori personaggi di wall cake island per quanto mi riguarda so che diciamo in questo molti probabilmente non concorderanno con me anzi però ci tenevo a dirlo e finite le mini avventure ecco il capitolo 994 è sostanzialmente un altro capitolo dove non succede granché o meglio succedono diverse cose anche magari importanti però non abbiamo uno sviluppo così diciamo incredibile della trama abbiamo le prime due vignette che sono un po forse quelle attorno alle quali anche oggi nella blind reaction ho avuto le maggiori aspettative cioè il combattimento tra kaido e foderi rossi che ahimè è stato chiuso è stato praticamente stoppato sul più bello quando kaido appunto stava ritornando in forma umana e quindi pronto probabilmente a prendere ammazzate speriamo appunto finalmente i foderi rossi proprio sul più bello oda ha deciso di schippare nuovamente di tagliare e di procedere oltre mi auguro comunque che vedremo un minimo scambio di colpi o forse o forse potremo addirittura tornare a prossimo capitolo con già tutti i foderi a terra e kaido magari che troneggia vittorioso sopra le carcasse diciamo così dei dei foderi rossi o comunque una cosa del genere ecco non mi non mi stupirebbe una cosa di una cosa di questo tipo chiaro c'è qualcosa di questo capitolo che a me personalmente non è andato giù o meglio non mi ha convinto del tutto ovvero questa storia del gioco di queen che da un lato sembra interessante perché dà uno scopo a molti personaggi e comunque rende tutti i personaggi che sono presenti appunto a onigashima ne giustifica in un qualche in una qualche maniera la posizione e il comportamento perché altrimenti sarebbero 4000 e passa personaggi buttati lì così che vengono praticamente tra virgolette trascurati con questo gioco diciamo così del veleno e dell'antidoto si dà in un qualche modo una razio una una ragione per per far sì che anche questi personaggi che sembrano così buttati lì a caso in realtà abbiano anche loro uno scopo e un obiettivo durante questa battaglia quindi in questo senso ci sta la scelta di oda che non è una scelta casuale oda ha sempre cercato di coinvolgere al massimo tutte le figure presenti nelle varie battaglie mi ricordo ad esempio a skypea con il diciamo il la royal rumble voluta da enner e poi il mamaragan diciamo la la pioggia di fulmini sull'isola di skypea insomma o comunque pensate ad esempio alla gabbia di dress rosa che si stava chiudendo sulla popolazione la bomba di alabasta che sta per scoppiare in cima al campanile quando pel fa quel gesto eroico appunto purtroppo tra virgolette non morendo avrebbe fatto una morte epica quindi ecco sono tutte scelte narrative che oda mette per in un certo qual modo coinvolgere tutto il pubblico tra virgolette delle sue storie quindi anche quei personaggi un po secondari la cosa che mi fa un po storcere il naso è il fatto che in questa saga a wano dove ci sono tantissimi personaggi anche importanti oda deciso ad esempio di schippare del tutto il combattimento tra jack e i visoni quindi facendolo liquidandolo in una in una vignetta e poi adesso non so quanto durerà questa caccia al tesoro diciamo del veleno io spero poco ma spero appunto di non rivedere una caccia ad apu per dire la corsa campestre dietro apu scratchman apu di due tre capitoli quando mi liquidi jack in una vignetta mi liquidi per ora orochi in una vignetta ma su orochi io credo appunto 100% che sia ancora vivo e che comunque tornerà appunto dicendo la sua magari anche contro kaido quindi anche orochi magari avrà un ruolo contro kaido in questa saga ecco mi liquidi però un jack in una vignetta e poi c'è il rischio che mi dedichi uno più capitoli alla corsa campestre di apu io spero spero vivamente di no spero di non vedere un'altra scena tipo la scalata del colosseo di dress rosa perché già è il secondo capitolo che vediamo rufi sanji e gimbe che corrono sui vari livelli ecco mi auguro che questa corsa non sia infinita perché sono queste forse le parti come la corsa di punk hazard dietro al gas la corsa di dress rosa sulla insomma le parti che a me e parlo per me ovviamente mio gusto personale di fruitore di appassionato personalmente a me annoiano di più sono le parti che mi piacciono di meno per il resto queen personaggio comunque sviscerato abbastanza bene da oda caratterizzato bene e per questo non credo che gli farà fare la fine di jack quindi spero a questo punto che sia queen che king abbiano il loro spazio abbiano un combattimento di almeno un capitolo a testa queen e king almeno un capitolo a testa e abbiano quindi il ruolo che si meritano vediamo che in questo 994 ad esempio chopper brooke nico robin sembra che stiano confabulando parlando appunto di queen come un loro obiettivo sinceramente mi sembra un po troppo va detto che è curioso il discorso dei match up perché ci sono tanti possibili accoppiamenti abbiamo visto finora solamente un tag team quello di usop e nami che è già archiviato da una parte poi abbiamo yamato che probabilmente ora se la vedrà con sasaki come si vede alla fine del capitolo ma ecco è abbastanza ancora tutto così nebuloso per quanto riguarda gli scontri quindi vorrei sapere anche un pochino le vostre opinioni sugli eventuali scontri di wano kuni c'è qualcuno che ha notato la presenza di zoro in questo capitolo e la differenza appunto tra zoro quello che sta facendo zoro e quello che stanno facendo sanji e jinbe allora sanji e jinbe sono una bella coppia secondo me abbastanza comica per certi versi e amalgamata bene che abbiamo visto già in alcune saghe precedenti qui sembra che stiano facendo da bodyguard per rufi tra l'altro molto carina la scena la vignetta dove appunto sanji si arrabbia per non essere stato citato no dagli sgherri di kaido che parlano solamente di jinbe e di rufi e non citano appunto gamba nera il loro scopo è già stato detto è quello appunto di evitare che rufi combatta e sprechi energie inutilmente in vista della battaglia contro kaido no e direi che ci sta tutto io ho sempre pensato che in questa saga zoro dovrà fare qualcosa di eccezionale come sanji ha fatto la torta contro big man anche zoro qui a wano io credo debba fare qualcosa di eccezionale quindi ho pensato dovrebbe anche lui insieme a rufi andare contro kaido ora il punto è se rufi viene preservato in un certo qual modo e non combatte con nessuno fino ad arrivare da kaido allora che senso ha che zoro ad esempio sprechi energie nella corsa campestre con apu ecco le questioni sono due o zoro si limita a sconfiggere apu e magari ad andare non so contro queen o contro king ma ripeto sarebbe per me da lettore sarebbe una delusione perché altrimenti non puoi dare la spada di oden la spada capace di ferire kaido a zoro questa che dovrebbe essere la sua saga e poi non me lo fai combattere con kaido cioè poi me lo mandi a correre dietro da pu cioè non ha senso quindi o la cosa è questa e personalmente trovo abbastanza non sense che gli dai la spada di oden altrimenti vorrebbe dire che zoro prima magari sconfiggerà pu avrà una scaramuccia con queen eccetera prenderà l'antidoto o chi per lui e poi dopo si unirà a rufi nella lotta contro kaido in questo caso attenzione potrebbe avere un ruolo sicuramente forse minore rispetto a rufi nella battaglia con kaido ma bisognerà ricordarci quando se ovviamente tutto ipotetico se avverrà questo scontro bisognerà ricordarci che zoro aveva sprecato più energie di rufi durante il corso della saga e quindi anche qui attenzione perché poi si parla sempre di questo rapporto di forza tra zoro e rufi zoro e sanji sapete bene com'è la questione però attenzione a questi dettagli non credo comunque che zoro possa avere come ruolo solo quello di correre dietro a scratch man a pu perché altrimenti ragazzi siamo nel ridicolo ripeto spero che non si dilunchi troppo questa parte comunque mi è piaciuto l'approfondimento che oda sta dando al personaggio di queen e per il resto nulla diciamo che la parte finale del capitolo è abbastanza povera secondo me nel senso che abbiamo sì un paio di notizie in più sul fatto che yamato quel giorno fosse presente che avesse visto come molti tra l'altro avevano ipotizzato che fosse stato presente quindi che fosse stata presente alla morte di odon e quindi da quel momento abbia deciso di o anche da prima magari di voler ereditarne appunto il volere quindi non mi stupisce quello che avviene non mi stupisce che faccia fuori un fodder tra virgolette uno scrauso con un colpo solo tra l'altro ecco mi stavo quasi dimenticando altri personaggi degni di nota sono ovviamente la giraffa la giraffa e la gallina adesso non ricordo neanche i nomi posso riguardarli un attimo nel capitolo se lo trovo comunque è stata bellissima la scena ecco miglior scena comica del capitolo fortrix fortrix lo smile della gallina con la testa che esce direttamente dal culo della gallina e hamlet la giraffa che invece ha nel volto l'uomo che quindi ha questo corpo che è tutto tremante no che questo povero collo che sorregge questo questo corpo cioè mi faceva veramente ha fatto veramente ridere la scena con gimbe e sanji che che spazzano via questi personaggi così brutti e ridicoli è quasi come se oda avesse voluto mettersi in ridicolo lui stesso perché probabilmente sa che molti hanno criticato anche gli smile per il fatto che sono spesso ridicoli eccetera eccetera disegnati male così ha voluto fare proprio questi due personaggi demenziali io credo volutamente proprio a livelli demenziali tra l'altro ecco fortrix ha una mini alabarda ora ci ho fatto caso stile barba bianca un bisento ecco un mini bisento ma comunque veramente personaggi demenziali volutamente ridicoli e ridicolizzati da parte di dell'autore da parte di oda quindi ecco questa la nota la nota forse migliore del capitolo più divertente per quanto riguarda il discorso del del boss yogoro che si si preoccupa di voler uccidere appunto piuttosto che consentire al boss o masa di fare seppuku sicuramente chi di voi ha un mastica un po di cultura giapponese saprà meglio di me forse il perché di questa scelta non credo che sia una messa lì a caso e per il resto non c'è molto di molto altro di interessante nel capitolo ho notato le prime due tavole quelle in particolare di kaido che combatte appunto con i foderi disegnate molto molto bene forse meglio del resto del capitolo a riprova di quanto oda probabilmente ci tenga a questo personaggio e al suo combattimento ai suoi combattimenti l'immagine di kaido che torna in forma umana tra l'altro non vedo l'ora di vederlo in forma mista perché la forma mista deve essere la forma più devastante come noi sappiamo essere appunto negli zone la forma più devastante anche se per ora non c'è stata mostrata la forma mista ad esempio di anche di jack ma è un altro discorso ecco la parte di kaido sicuramente è la più interessante torna in forma umana fa un discorso che è coerente con la sua apparizione quindi con il personaggio il discorso della morte tirato in ballo per l'ennesima volta kaido che dice appunto che diciamo è con la morte che l'uomo realizza se stesso fa un po pensare questa frase io ho sempre creduto che la storia dell'immortalità non fosse non sia vera kaido non è immortale probabilmente cerca solamente qualcuno che sia in grado di ucciderlo in battaglia perché è diventato così forte probabilmente che non riesce in questo bisogna capire quando è avvenuto questo passaggio e come è avvenuto perché sappiamo che comunque è stato sconfitto fin dai tempi dei pirati rocks quando era ancora solamente un apprendista bisogna capire cosa è successo poi nel mentre mi piace anche mi è piaciuta molto anche la risposta di kinemon kinemon che si conferma un personaggio molto cazzuto molto più di quello che probabilmente io pensavo dico la verità fino ad arrivare a wano l'avevo ecco kinemon veramente più passano i capitoli e più oda lo sta valorizzando come personaggio e quindi bella l'immagine di kaido che troneggia sui foderi e che si prepara probabilmente a sconfiggerli facendo quel discorso sulla morte ma è molto bella anche la risposta di kinemon che ovviamente adesso perderà verrà sconfitto ma dice fiero essere uccisi da te non sarebbe affatto un onore per noi quindi tanto di cappello al al testoring diciamo al allo scriptum di oda e appunto a questo scambio di battute che ho trovato veramente come il miglior dialogo probabilmente di del capitolo meglio anche della parte di yamato e momonosuke in ogni caso vorrei sapere un pochettino le vostre impressioni fatemi sapere se volete magari una live nei prossimi giorni visto che ci sarà anche la pausa ne potremo discutere meglio insieme come sempre richiedo di supportarmi sui social quindi the name before tokyo qui sotto in descrizione trovate il link del mio profilo instagram e potete seguirmi anche su tiktok mi trovate come the name before tokyo la mia pagina facebook è sempre quella ormai straconosciuta the name before tokyo e detto questo ragazzi cosa dire io credo che ci aspettano veramente dei combattimenti con i fiocchi perché oda sta dando molta attenzione lo vedo anche da come disegna proprio le immagini da come disegna le le scene di scontri o comunque di le scene dove ci sono personaggi che devono scontrarsi quindi vedo proprio che da un'attenzione diversa a livello proprio grafico detto questo fatemi sapere la vostra come sempre un saluto a tutti come vedete sempre op sempre op da tnbt è tutto e ci vediamo con il prossimo video ciao